In A12 un chilometro di coda per lavori nel tratto compreso tra lo svincolo di Versilia e quello di Massa in direzione Genova. In A1 fare attenzione per un veicolo in panne tra Valdarno e Incisa Reggello in direzione Firenze. In A11 segnalato personale su strada per lavori tra l'allacciamento con la A12 Pisa e l'allacciamento con la A12 Lucca in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze in direzione Siena scambio di carreggiata per lavori tra Montrigioni e Siena e tra lo svincolo della A1 di Firenze in Plunita e San Casciano Nord. Sulla statale 2 Cassia tratto chiuso per lavori di manutenzione del ponte del Paio tra il bivio per Radicofani e quello per Abbadia San Salvatore. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!